Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati e bentornate. Sono felicissima perché oggi vi faccio una video lezione su un artista che mi piace un casino, ma prima di iniziare a parlare di lui vi invito ad andare a vedere il link che trovate in descrizione perché è quello che vi consente di poter scaricare i pdf di tutte le lezioni che io creo e che qui vi mostro in anteprima. Quindi se siete degli insegnanti di arte immagine o di storia dell'arte e quindi ritenete che questo materiale vi possa essere utile in qualche modo, vi invito di andare a fare un giro proprio su questa specie di negozietto che io ho e il cui link lo trovate in descrizione. Vi invito anche ad andare a riprendere le lezioni precedenti se ve le siete perse. Siamo già alla quarta lezione e abbiamo già parlato chiaramente in termini generali del movimento d'Ada, del suo esponente diciamo principale che è Marcel Duchamp e di Man Ray. Oggi invece andremo a parlare di un artista poliedrico veramente eclettico e mi piace moltissimo una frase che lui disse perché secondo me rispecchia molto la sua indole così propensa a cambiare orientamento ogni due per tre. Lui è Francis pica via e mi piacciono molto queste due frasi che ho deciso di raccontarvi. La prima è questa per avere idee pulite bisogna cambiarle come le camice interessante e l'altra è questa qui la nostra testa è rotonda per permettere ai pensieri di cambiare direzioni e lui credetemi di direzioni ne cambia tantissime. Pica via questa frase scritta nel 1922 ci fa capire lo stile eclettico e dinamico di uno dei pittori più prolifici e particolari della prima metà del novecento. Nel corso della sua vita ha sperimentato tutti gli ismi possibili e immaginabili impressionismo cubismo fobismo dadaismo surrealismo astrattismo. Questo passaggio da una corrente all'altra è sempre molto libero e lo vede sempre rielaborare gli stili in modo totalmente personale. Ho letto tra l'altro che è estremamente difficile riconoscere la sua cifra stilistica da un'opera all'altra tanto è camaleontico nel suo modo di fare arte. Questa slide secondo me è emblematica e significativa. Picca via al centro tutto attorno tutti questi movimenti artistici di cui io vi ho accennato e l'omino che si mette le mani nei capelli e i punti di domanda perché non ci capisce niente. E chiaramente per i ragazzi che sono abituati a ragionare per compartimenti stagni ahimè è molto difficile cercare di avere questa duttività mentale. Perciò ribadiamolo sempre e comunque che è normale in questo momento storico che nella storia dell'arte succeda che un artista sperimenti più stili insieme soprattutto se consideriamo gli artisti dadaisti e quelli surrealisti che come movimenti cronologicamente si collocano più o meno nello stesso periodo. Allora se consideriamo che lui si scaglia indistintamente contro tutta l'arte che lo circonda e che la caratteristica fondamentale di tutte le sue opere è la presa in giro e la provocazione mi sento di dirvi che secondo me lui rientra senza ombra di dubbio nel dadaismo e anzi che lo era dalla punta dei capelli fino alle dita dei piedi. Tutte le sue opere anche quelle che in apparenza sembrano tradizionali in realtà nascondono un'ambiguità che mi fa pensare anche per il fatto che sono molto beffarde nei confronti della società e della cultura dell'epoca quindi secondo me lui è dadaista. Passa attraverso varie fasi però la sua prima fase artistica è quella di ispirazione impressionista e vediamo appunto dipinti che si collocano nel solco della tradizione delle opere di Monet e Amici. Siamo nei primi anni del 1900 e lui fa questa pittura a piccoli tocchi in cui cerca di catturare ed è proprio quello che ritroviamo appunto nel titolo del quadro di destra Notre Dame effetti gli effetti della luce sulle cose così appunto come facevano gli impressionisti nella loro ricerca. Dall'impressionismo passiamo a questo genere di opere qui. Questo dipinto intitolato Primavera passano dieci anni rispetto alle opere precedenti che vi ho mostrato, circa dieci anni e possiamo considerarlo un'opera a metà tra il cubismo e l'astrattismo perché le forme sono così semplificate da non poter essere più immediatamente riconoscibili. È di derivazione cubista il fatto che comunque l'immagine venga notevolmente frammentata ma siccome gli elementi che compongono l'immagine ci ricordano qualcosa ma alla fin dei conti ci è impossibile identificarli ci fa intuire che Piccabia lavora quasi ai limiti dell'astrazione inseguendo un risultato che fosse sempre più lontano dalla realtà. Teniamo ben presente che il primo acquarello stratto di Kandinsky, padre dell'astratismo, è se non sbaglio del 1915-13 o 15, non me lo ricordo con esattezza perdonatemi, però diciamo che gli anni sono quelli. Altra caratteristica comune alle opere del cubismo, soprattutto quello sintetico, è l'uso limitato della gamma cromatica che qui si spende in ocra e grigi. In questo modo l'artista va a creare una sorta di ritmo alla composizione che è giocata prevalentemente sui toni dell'ocra e che vanno a mescolarsi con i grigi neutri stabilendo un contrasto. Piccabia durante la sua fase d'Ada è per lo più noto per questi quadri, scusate, queste opere in cui i protagonisti sono elementi meccanici, tant'è che le opere di questa fase sono chiamate anche meccanomorfie. Tra il 1913 e il 1917 Piccabia si reca spesso a New York, dove ha modo tra l'altro di conoscere Duchamp e Mery. Le opere che Piccabia realizza in questo periodo, Dada, hanno come soggetti principali elementi meccanici che lui copia da riviste scientifiche. Ne è un esempio Sfilata d'amore che vediamo qui e tali opere dichiarano nei titoli lo spirito irriverente tipico del Dada, infatti, no? Sfilata d'amore. Nell'istante in cui l'opera viene collegata al titolo tutto un insieme di macchine assume un significato diverso, perché se io dovessi guardare le opere senza conoscerne il significato, di primo acchito potrebbero essere delle rappresentazioni, delle immagini che io esatto trovo su delle riviste scientifiche. In realtà è il titolo che nasconde il significato di tutta l'opera. Allora, se Sfilata d'amore riproduce, cioè tenta di riprodurre il rumore meccanico del rapporto amoroso tra uomo e donna, ok? Parlo nello specifico proprio del momento dell'amplesso e se io questa immagine ho deciso di non analizzarla perché le risatine qua si sprecano in classe, quindi evitiamo del tutto e quindi passiamo direttamente a questa che è macchina che gira velocemente, dove secondo me le allusioni possiamo farle un po' più, cioè possiamo farle meno edulcolorate, no? Macchina che gira velocemente, opera datata 1916, rappresenta dei macchinari, il problema è che non sono semplicemente dei macchinari, infatti è di fondamentale importanza qui leggere le scritte che lui porta su queste opere. Allora, va a numerare questi due ingranaggi meccanici, uno e due, dove il due è l'ingranaggio meccanico più grande e l'uno è quello più piccolo, il primo è l'uomo e il secondo è la donna. Quindi il significato dell'opera è svelato in questa scritta, guardate come l'ho ricamata bene questa, pica via, attraverso la raffigurazione di due ingranaggi meccanici vuole rappresentare i comportamenti umani, anche se in realtà più che comportamenti umani le sue allusioni sono quasi sempre sessuali e in questo caso specifico le relazioni tra uomo e donna, senza specificare. La macchina gira velocemente, che dà il titolo del dipinto, potrebbe alludere alla velocità con la quale si creano le dinamiche tipiche delle relazioni d'amore. Vi piace? Cerchiamo di stare un po' soft, però è importante che loro capiscano anche il fatto di questi ingranaggi che si incastrano perfettamente, c'è nascosto il significato sessuale qui, no? Di una parte e nell'altra, però se stiamo un po' più leggeri in superficie penso che possa bastare anche questa roba qui, ok? Allude alla velocità con cui si creano le dinamiche tipiche delle relazioni d'amore, in questo caso tra uomo e donna. Un'altra opera molto famosa di Picabia è questa, intitolata Occhio cacodilato del 1921, che è un'opera d'arte che non è un'opera d'arte, cioè in che senso? Si tratta di un insieme di frasi, firme e immagini incollate a collage, che Picabia raccoglie durante il periodo che trascorre in ospedale e tale libertà di ideazione e di esecuzione determina il carattere dadaista dell'opera, ok? Cioè qui di dada c'è questo, la libertà di ideazione ed esecuzione, perché di provocatorio in realtà non è che ci sia granché. Lui la realizza quando viene ricoverato in ospedale perché ha una malattia all'occhio e gli viene somministrato questo farmaco che dà il nome al titolo cacodilato, non so cacodilà e si amava forse il farmaco, adesso non mi ricordo. Comunque lui quindi probabilmente in questi giorni in cui è ricoverato, un po' per esorcizzare il dolore dovuto appunto alla malattia, inizia a probabilmente concepire l'idea di questa di quest'opera, se così vogliamo chiamarla, e quando vengono a trovarlo gli amici, tra cui diversi artisti, va addirittura Tristan Zara a trovarlo e vediamo appunto il suo nome in basso a destra, gliela fa firmare come fanno i ragazzini oggi quando si fanno firmare il gesso ad esempio, ed è una sorta diciamo di diario di quel momento lì che lui trascorre in quel determinato momento lì. Bene. L'occhio cacodilato diventò perciò un'opera collettiva, non è più solo un'opera realizzata da Picabia, ma un'opera realizzata da tutti quelli che passano di lì e che appongono la firma o un ritaglio di giornale o una frase. Merrey racconta che quando andò a trovare Picabia all'ospedale, sul pavimento erano disposti diversi contenitori di vernice che i visitatori potevano utilizzare per poter, come si dice, contribuire alla realizzazione di quest'opera. Il 1921 però è anche l'anno in cui lui decide di allontanarsi dal movimento Dada e si accosta al surrealismo. Una sua frase celebre di quel momento è questa, Dada non era serio e è per questo che ha conquistato il mondo. Se qualcuno ora lo prende sul serio è perché è morto, cioè lui capisce che è arrivato il momento in cui Dada non ha più senso di esistere in quanto tale, poiché probabilmente ha ricevuto una propria consacrazione, diciamo, a livello di critica e quindi non ha più senso di esistere perché la sua natura provocatoria è morta. e si avvicina al surrealismo. Queste sono alcune opere che possiamo far cadere in questa fase, La donna dei fiammiferi e Centimetri. Nel 1925 va al sud vicino a Cannes, in costa azzurra quindi, per allontanarsi un po' da Parigi e il suo stile pittorico subisce una nuova evoluzione e inizia a disegnare, scusate, a realizzare una serie di opere popolate da mostri, come li chiama lui, e realizzate attraverso la tecnica delle trasparenze. Lavora in contrapposizione con l'arte figurativa che invece era tornata di moda nel periodo tra le due guerre. Cioè, nella storia dell'arte sappiamo che intorno agli anni 20 e 30 del Novecento, in Italia ad esempio, si va ad affermare uno stile, un linguaggio denominato Ritorno all'Ordine ed è il momento in cui gli artisti riprendono in mano il proprio pennello, diciamo, Cioè, ritornano ad una pittura più tradizionale, figurativa, perché c'è forte questo desiderio di normalità. Pica via, che è un artista ironico e, come vi ho detto, lui prende qua e là delle cose dai diversi linguaggi pittorici, dai diversi linguaggi artistici, e lo fa suo in una maniera totalmente personale. Il suo ritorno all'ordine, tra virgolette, è questo. Lui continua in perterrito a prendersi gioco della società contemporanea, caricaturandola, ok? Quindi fornendocene una caricatura in questa serie dedicata appunto a figure umane realizzate, se volete, e me lo permettete, in uno stile quasi espressionista. Quindi una linea di contorno nera, ben marcata, e figure deformate, caricaturali. Ad esempio, I baciatori, è un dipinto del 1923-1926, che pica via dipinge in seguito alla rottura con il movimento surrealista. André Breton era il teorico del movimento surrealista, intellettuale, poeta. e quindi i mostri nascono dopo il suo allontanamento dal surrealismo. Lui raffigura in questo caso due amanti nell'atto di baciarsi, ma è un'opera che ci lascia un po' interdetti. Non ha niente della poesia e della gradevolezza che dovrebbe avere un'immagine di questo tipo. No, assolutamente, ci fa anche un po' ribrezzo, nonostante sullo sfondo siano disegnati dei fiori blu in basso a destra. I colori neri e i colori rossi dominano il dipinto e anche la cornice, che è, pensate, stata creata appositamente dall'artista. Le trasparenze, invece, sono queste qui. Si dice che fece un viaggio in Italia che rimase fortemente colpito dai maestri italiani, nello specifico da Sandro Botticelli e da questa linea molto grafica che lui aveva. Questa influenza di cui lui risentì, secondo me, è molto evidente in questo dettaglio di un dipinto, che è quello di destra, che a quanto pare potrebbe essere una maternità a una donna con bambino. Qui li vediamo meglio. Qui scelgo il ritratto di Olga del 1930 per cercare di far capire questo discorso di trasparenze. Sono dipinti a strati sovrapposti, dove le figure appaiono su più dimensioni e dove l'accostamento delle immagini non segue una logica né temporale né spaziale. Riesce così piccabia ad ottenere delle opere originali, dove va a stravolgere l'idea tradizionale della composizione, prendendosi gioco dalle regole accademiche. Infatti qui, vedete, parrebbe un ritratto tradizionale a mezzo busto, se non fosse che, sovrapposta all'immagine di Olga, troviamo degli elementi vegetali, che chiaramente le due figure non trovano una loro collocazione in primis spaziale definita e in un secondo luogo, andando a demolire proprio il concetto stesso di spazio, non ha più senso nemmeno che esista il concetto del tempo. Questa è Pavonia, anche questa appartiene al ciclo delle trasparenze, quindi abbiamo più immagini dipinte e sovrapposte. Una curiosità interessante è che è stata battuta all'asta nel 2022, quindi solo l'anno scorso, per quasi 10 milioni di euro, sono tantissimi, segnando un record come il quadro di Picabia più caro mai venduto fino a quel momento. 10 milioni di euro. Pavonia. Poi sappiamo che dopo la seconda guerra mondiale Picabia torna a Parigi e passa all'arte astratta, che a quanto pare è quella con cui lui va a chiudere il capitolo del suo percorso artistico. Ho trovato due esempi, egoismo questo qua di sinistra, che non so, magari voi mi saprete dire con certezza, non ho trovato tante informazioni in merito né a questi quadri, né alle trasparenze, né a mostri, sinceramente. Ho fatto molta fatica a reperire informazioni, però albero in fiore mi piaceva perché ha un certo non so che di miroglifico, non so, mi piace, sembra una faccetta simpatica, interessante il discorso delle linee, ok. Ed egoismo, ero indecisa se metterlo oppure no, perché onestamente a mio avviso è molto fallica questa immagine. Se qualcuno di voi ha delle informazioni a riguardo, me lo faccio sapere perché potrebbe essere molto interessante fare un'analisi più dettagliata di quest'opera. Ok, queste sono le ultime informazioni che io vi do su Picabia, vi ricordo il link in descrizione per poter scaricare i pdf che potrete poi riutilizzare tutte le volte che volete, con tutte le classi che avete. E prima di salutarvi vi chiedo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti, di mettere un like se vi è piaciuto il video, di commentare se pensate che io abbia detto delle cavolate o se volete aggiungere delle informazioni a quello che io ho detto, perché a volte non riesco a dire tutto, e di condividere il video se pensate che possa essere utile a qualcun altro. Io vi saluto, vi ricordo che nella prossima lezione parliamo dell'ultimo artista dadaista che io ho scelto di raccontarvi e l'ultima lezione vede anche i laboratori, quindi non perdetevelo. Ciao a tutti!